C'è un sito, hai visto il sito dove c'è l'applicazione in tutte le barche? C'è un sito, l'ho visto, sembra che lo so su Focus Praticamente c'è collegato al GPS delle navi in circolazione, anche io e poi ti dà la tecnica della nave dove prende e ti dice dove sono, ma l'abbigata, e tu dici questo qua è cittadino C'è un sito, l'abbiamo che cos'è? New York New York Eh? Ma c'è barra? Ma quanto c'è barra? L'altro stile periferia estrema Eh? Si Guardalo là C'è che c'è un altro errore C'è che c'è un altro errore Si 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 Un commento si sprecare Si Si Questa è un croce qui No No E Non Questa è un булоamorzato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.